Ti sei stancato di pagare per lo spreco di acqua causato dai rubinetti? Che ne pensi di evitare le bollette salate dovute a tutta quell'acqua sprecata che spesso esce dal rubinetto anche con una pressione molto bassa? La soluzione sembra difficile, ma è davvero molto semplice. Con il getto risparmia acqua dell'Intergross eliminerai ogni problema. Perché pagare caro per un idraulico se puoi risolvere il problema anche da solo? Grazie alla tecnologia ultramoderna, il getto risparmia acqua è il miglior acquisto per la vostra cucina. Con la stessa comodità puoi avere la pressione giusta per risciacquare, oppure una morbida doccia a pioggia per le tue verdure più delicate. Avvita il getto risparmia acqua semplicemente sui tuoi rubinetti. In 30 secondi avrai un bel getto d'acqua che evita ogni spreco. Grazie alla sua innovativa tecnologia, miscela acqua ed aria creando un getto sempre perfetto che consuma molta meno acqua. Cosa aspetti a rendere i tuoi gesti in cucina più efficaci? Potrai pulire comodamente insalata, funghi ed altre verdure senza danneggiarli. Anche risciacquare il lavandino dopo il lavoro sarà facilissimo grazie ai movimenti su e giù. Infatti grazie alla testa snodata il rubinetto potrà raggiungere anche l'angolo più difficile del tuo lavandino. Con un gesto molto semplice, in un istante trasformerai il getto pieno in una delicata doccia a pioggia. Grazie al getto risparmia acqua, ogni gesto in cucina diventerà molto più efficace. Prendine uno o più di uno e paghi alla cassa. Intergrossing Store Video, novità di qualità.